Ciao a tutti, oggi è lunedì 5 maggio, mi trovo in piazza San Fedele a Milano con Mattia Calise, portavoce del Movimento 5 Stelle a Milano, al Comune appunto. Abbiamo una cosa importantissima da dirvi e la faccio dire naturalmente da chi è titolato, molto più di me. Mattia, cosa dobbiamo dire a tutti quelli che poi vedranno questo video? Abbiamo un appello fondamentale per tutti gli attivisti, simpatizzanti o semplicemente chi intenderà votare il Movimento 5 Stelle a queste elezioni, cioè quello di donare un po' del tempo il giorno delle elezioni, quindi il 25 maggio. Quello di cui abbiamo bisogno è di avere disponibilità da parte vostra a diventare rappresentanti di lista, o meglio, come piace chiamarli a noi, i guardiani del seggio. Infatti il giorno delle elezioni sarà possibile partecipare nel proprio seggio elettorale allo scrutinio e verificare che non vengano tolti voti a quelli che spettano il Movimento 5 Stelle. Per questo lanciamo questo appello, speriamo di farlo girare il più possibile, di coprire tutti i seggi in modo che neanche un voto venga perso e che si possa seguire perfettamente tutta la procedura in tutta Italia. Esatto, e io mi permetto di aggiungere che questo potrebbe essere, ma per molti, quelli che non si sono ancora avvicinati al Movimento, l'occasione per avvicinarsi per la prima volta e capire veramente di che pasta è fatto tutto il movimentismo intorno al Movimento 5 Stelle. Sì, esatto. Poi via web troverete del materiale per prepararvi e quindi conoscere il regolamento e conoscere esattamente tutte le modalità di conteggio dei voti in modo da non farci fregare e poter intervenire come si deve durante lo scrutinio in caso di anomalie. Esatto, e di rivolgersi soprattutto al meetup vostro, locale, che vi darà delle indicazioni chiaramente preziose proprio per questo compito. Esatto, su Milano ne stiamo cercando circa mille, abbiamo tantissimi seggi e abbiamo predisposto un form su internet per dare disponibilità suddivise sulle nuove zone, quindi chiediamo ai vari meetup di organizzarsi proprio per raccogliere le adesioni e cercare di coprire il più grande numero possibile dei seggi. Allora vi aspettiamo, guardiani del seggio futuri, grazie e grazie Mattia naturalmente per la tua disponibilità. A presto, ciao a tutti.